Alberi che crescono a dismisura, in altezza e in larghezza, che nel periodo estivo creano l'effetto ombra molto piacevole in via San Giovanni di Malta. Alberi che tuttavia, non curati, come vi stiamo mostrando, creano una serie di problematiche che vengono denunciate, che sono portate all'attenzione della nostra redazione dai residenti di via San Giovanni di Malta. Pensate, sono ben 56 gli esemplari di Tigli qui collocati in tutta la via, fino quasi all'incrocio con la via Garibaldi nei pressi della prefettura. Eppure quello che manca, che viene messo in evidenza, è l'intervento di manutenzione e di cura del verde pubblico. Questi alberi non soltanto sono cresciuti, alcuni hanno raggiunto anche l'altezza dei palazzi. Di giorno creano l'effetto ombra, la sera creano l'effetto selva oscura, perché l'intera via è completamente al buio, perché i rami hanno coperto i pali della pubblica illuminazione. Dunque una pubblica illuminazione che di fatto c'è, ma che non svolge la sua funzione. Serie di problematiche che vengono adesso portate all'attenzione di Palazzo Zanc, all'attenzione di Messina Servizi, che ormai cura questo aspetto della manutenzione del verde, e questo aspetto anche delle potature. Alcuni interventi, città, sono stati realizzati, ma probabilmente manca una programmazione a 360 gradi. Il nostro compito è mostrarvi un contesto che vi viene denunciato, mostrarvi e mettere in evidenza una situazione di disagio, che la sera crea problemi per la pubblica e incolumità per quanti attraversano questa via e che crea anche disagio a chi abita in questi palazzi, perché davvero le foglie hanno raggiunto l'altezza degli stabili. E potrebbero, senza alcun intervento di potatura, anche arrivare proprio all'interno delle abitazioni.